E' un'esercito francese a Sedan 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 Sì, sì, sì. Non lo fa scappare. No, no, no. Sì, sì, è come, è come. Ma dove il diavolo? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì.